dolcetto o scherzetto dunque ragazzi se volete sapere come pagare solo 10 euro uno show in del genere seguiteci nel video ciao ragazzi benvenuti al canale o bentornati se già ci conoscete studio bonsai in subria oggi vi vogliamo mostrare una lavorazione piuttosto semplice che però può aiutarvi a fare mente locale sugli step da mantenere quando approcciate una così un abbozzo di lavorazione un progetto qualsiasi su una pianta anche di poco conto una pianta molto economica da pochi euro che però in tanti mi hanno chiesto come poter approcciare la prima volta al bonsai tanti neofiti che magari vogliono fare loro delle prove per poi andare a migliorarsi in una realtà come ad esempio può essere la nostra allora come iniziare giusto per prendere un po di fiducia un po di dimestichezza se già non l'avete fatto metteteci un like perché quello che ci stimola fare sempre meglio fare nuovi video iscrivetevi al canale cliccate la campanella così vi arrivano tutti i nuovi aggiornamenti e le novità e video quant'altro e cinque secondi di sigla e poi eccoci qua con la nostra lavorazione bene ragazzi allora partiamo con la nostra lavorazione questa volta il video non lo faccio io lo fa un mio allievo marco marco monico vi spiegherà visto con dal punto di vista di un allievo come fare step by step ad orientarsi su una pianta così che se vogliamo anche un po incasinata buon lavoro marco grazie molto bene quindi avrò l'onore di procedere con la lavorazione come diceva arrivo 10 euro da vivaio ginepraccio però sicuramente utile per me per capire per imparare allora prima cosa che facciamo vado a tagliare il vaso per arrivare diciamo al alla linea del terreno e iniziare a capire come orientarci e vedere il punto di spicco dell'albero di seguito poi andiamo a pulire un po da rami morti terreno rimasto lì o foglie in modo da chiarire totalmente l'idea e poi invece saranno gli step successivi di pulizia riordino dei rami rami cadenti che vedremo per là molto bene dopo aver pulito il tronco adesso vediamo qua c'è sono qualche radichetta esposta andiamo a pulire qualche piccola radice tipo questa qua la vado a togliere così non mi da fastidio e le prime cose da fare vedere un po se ci sono qualche qualche ramo un po un po che ci da fastidio tipo qua partono molto vicini alla base quello che andiamo a fare semplicemente vado lo taglio lascio lì un un pernino che non si sa mai ma nel frattempo mi chiarisco un po le idee secondo step andiamo a tagliare tutta questa vegetazione cadente questi piccoli ramettini che vediamo e andiamo a pulire il secco per cui semplicemente pulirò un po tutti i rami e poi passiamo alla spazzolatura per togliere il residuo che non ci piace bene dopo aver pulito diciamo dalle dei rimasuli dal secco come dicevamo abbiamo un'idea un po più chiara di quella che la pianta la cosa che secondo me è interessante che all'inizio non sia mai sì sia qualche idea di come fare la pianta qualche suggestione però solo nel momento in cui metto lavoro vedo bene i rami le curvature riesco poi a capire l'identità della pianta quello che ci può più uscire altra cosa che ovviamente non abbiamo non abbiamo specificato ma è abbastanza sembra abbastanza chiara che questo ginepro è proprio un ginepro da palestra bassa qualità ovviamente una vegetazione un po giallognola non è così fitto è compatto però appunto serve a imparare altro step da fare è pulire tutte queste piccole screscenze che ci sono sulla corteccia sono dei piccoli bozzi abbiamo usato la tronchese per per rimuoverli in questo modo abbiamo a parte un tronco più bello e privo di inestetismi ma poi ci aiuterà anche con la filatura prossimo step quello più coraggioso guardiamo bene i rami che abbiamo quindi cerchiamo di capire un po le curvature se ci possono essere delle inclinazioni che ci interessano se ci sono dei rami che magari possono essere rigirati insomma cercare di uscire dall'ovvio cercare di trovare un'idea una visione per questa pianta quindi il vero e proprio step sarà rimuovere tutto quello che non mi interessa quindi tutti i rami che non mi servono gli vado a tagliare e voilà per cui tagliamo i rami che non ci servono però lasciamo una piccola lunghezza che potrebbe servirci da lavorare a gin poi nel caso lo rimuoviamo eccolo qua ok a questo punto abbiamo solamente questi due rami per cui uno un po più lungo uno un po più corto che saranno diciamo quelli che ci interessano più per la lavorazione adesso arriva la parte più divertente dunque abbiamo abbozzato i primi gin per cui ci teniamo qua per ora sono un po lunghi sono un po puntiti forse serviranno per poi avere più opzioni estetiche da valutare e come dicevamo questo è il momento più divertente ma anche più difficile la scelta quindi abbiamo questi due rami uno un po più grosso con una curva forte qua sotto e uno invece un po più esile però con un movimento interessante qua un po più arzigogolato quasi a spirale dobbiamo andare a scegliere quello che manterremo la mia scelta è stata quella di tenermi questo qua più piccolino per cui intanto ciao ramo e poi andremo probabilmente ad accorciarlo in quanto così sarebbe forse un po troppo lungo ma per ora ce lo teniamo che non si sa mai abbiamo assicurato la pianta così non si muove sta bella ferma andiamo a togliere questi due che ci danno fastidio così poi possiamo fare la messa in sicurezza del ramo e lo portiamo un po dove ci serve importante in questo caso non avere né screscenze per cui andiamo a lavorare bene qui dove abbiamo tolto perché così quando usiamo il nastro non lo andiamo a bucare in questo caso visto che il ramo è molto fine utilizziamo semplicemente del nastro isolante e non della raffia come si fa tradizionalmente ok abbiamo messo in sicurezza per cui vedete tutta la parte fin qui con il nastro isolante adesso è il momento di mettere sul filo così ci portiamo un po' a fare la nostra curva intanto l'abbiamo anche un po' diciamo reso un po' più flessibile cercando di tramite torsione piegatura con le mani in modo che così almeno un po' più elastico e ci può aiutare nella lavorazione allora cerchiamo di dare questo movimento e chiudere in questa direzione e poi diamo una contropiega e ritorniamo di qua ve lo facciamo vedere quindi da qui fino ok 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 dopo averlo girato tutto il filo si è un po' allargato in alcune zone ma poi andremo a stringerlo secondo necessità siamo arrivati alla fine in cui vado a tagliare l'ultima parte adesso mettiamo il filo e poi styling finale per arrivare alla forma definitiva ok siamo arrivati a fine lavorazione ovviamente si fa quel che si può la vegetazione è un po' lunga però abbiamo ribassato il tutto fatto delle curve coraggiose qui per riportare la vegetazione in modo compatto si è formato una sorta di triangolo e poi abbiamo lasciato per ora questo gin che poi adesso forse un po' lungo ma in un futuro vedremo vedremo cosa farne e niente ad ora in poi semplicemente lo teniamo lì lo coltiviamo con attenzione e aspettiamo la prossima lavorazione bene ragazzi allora qui ci stiamo sorseggiando un carcadè contemplando la fine del lavoro avete assistito sorso radicali liberi addio avete assistito ad un esercizio che potete fare anche voi a casa come per liberare la vostra fantasia dalla pianta che era prima da pochi euro un po' confusionaria fare così spazio fare ordine nella vostra mente per ottenere qualcosa in più l'esercizio era anche per marco perché in realtà serviva anche a insegnargli a relazionare il lavoro che ha fatto su questa pianta una piccola pianta che però tante volte il problema viene non nella mancanza di creatività ma proprio nel saper mettere in ordine i vari step marco oggi l'ha fatto egregiamente spero che vi sia piaciuto se volete scegliere una realtà per portare avanti la vostra didattica studio bonsai in subria siamo qua grazie e alla prossima e grazie a marco e complimenti